Alcuni di questi sono ragazzi che magari hanno avuto esperienza in giro per il mondo e poi sono rientrati a Napoli anche grazie all'associazione con posizioni di diverso tipo, soprattutto di ambito economico. Poi una cosa che mi faceva molto piacere sottolineare è la presenza anche di un'associazione alla quale la nostra associazione Luminipe ha dato un premio per due orti urbani e quindi un premio di 15.000 euro. Loro presenteranno i risultati di questo progetto sociale, due orti urbani sviluppati tra Mater Dei e l'Arco Mirelli qui nella città di Napoli. Il nostro grosso lavoro sociale è cercare di infondere, noi cerchiamo di infondere nei nostri ex allievi l'idea di un lavoro inteso come un servizio al bene comune, quindi non solo uno strumento di arricchimento personale e professionale ma anche un servizio per gli altri sia nel proprio ambiente di lavoro che nella società. Quindi questo sicuramente ha un impatto sociale già di per sé, al di là di altri progetti ulteriori.